cavo otg on the go ho collegato mouse e tastiera anche adesso apro terminale vai poi mi collego in ssh raspberry pi oh adesso ho detto si chiama raspberry pi in effetti si pronuncia poi e poi non so la cosa figa è che funziona anche il tasto tab quindi tipo faccio un ls anzi facciamo un dio meno sh che mi dà la dimensione complessiva di una cartella la do su home p chiavetta pubblica boom 2,1 gigabyte ls-l via ls-l boom e mi dà olà una figata nano appunti ciao ragazzi questo è un ah l'hai accentato non va ah non va l'hai accentato un edito di testo cli si chiama nano ed è una figata pazzesca per vedere tutto quanto faccio presto e per scrivere altrettanto grazie al cavo otg e alla tastiera usb grazie al mouse non devo nemmeno 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 toccare lo schermo perfetto wow wow comunque adesso vuoi salvare i cambiamenti bla 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 yes ok cut appunti boom oh dio che bello sì è una figata porca miseria cut appunti boom oh dio che bello sì è una figata per vedere tutto quanto faccio e poi andiamo a stoppare il video 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 andiamo a stoppare il video